Bene, allora bentrovati, bentrovati, questo è il secondo appuntamento del corso di autoformazione che abbiamo collettivamente deciso, il primo l'abbiamo fatto la settimana scorsa su Cassa Depositi e Prestiti e abbiamo mandato sia la registrazione dell'incontro sia una relazione scritta, fatta dal relatore che in quel caso ero io, oggi facciamo il secondo incontro, vi dico già un cambiamento rispetto al resto del percorso, la novità è che Simone Repole oltre a fare l'incontro di questa sera si è detta disponibile anche per fare il quarto incontro, quello sulla finanza di progetto, noi siamo molto contenti di questa sua disponibilità, il problema è che l'11, quindi il lunedì 11, Simone non può e quindi il quarto incontro abbiamo deciso di spostarlo a lunedì 18, quindi oggi facciamo l'incontro sui bilanci comunali con Simone Repole, lunedì prossimo facciamo l'incontro sulla finanza dei comuni tra PNRR e ritorno delle politiche di austerità con Corrado Conti, poi saltiamo un lunedì, quindi lunedì 11 non ci sarà e invece il quarto incontro, quello sulla finanza di progetto, sarà con Simone Repole lunedì 18. L'altra cosa che vi volevo dire a tutte e tutti è che chi non ha ricevuto, chi non fa parte della mailing list riprendiamoci il comune o non ha ricevuto, non ha lasciato l'indirizzo l'altra volta, quindi diciamo è nuovo tra virgolette nelle comunicazioni, lo invitiamo a mettere il suo indirizzo email nella chat così poi le prossime comunicazioni vi arrivano direttamente. Io partirei subito, oggi l'argomento è leggere e capire i bilanci comunali, Simone Repole molti di voi già la conoscono perché hanno avuto occasione di apprezzarmi oltre alla disponibilità, alla competenza rispetto al tema dei bilanci comunali, ma in generale diciamo di tutto quello che riguarda l'amministrazione pubblica dal basso degli enti locali e darei subito la parola a Simona, cercherei di organizzarci un po' come l'altra volta, cioè non so Simona quanto ha bisogno, una mezz'ora 35 massimo 40 minuti di relazione di Simona e poi uno spazio per le domande. Sulle domande, domande, interventi, spero che facciamo come l'altra volta, cioè tutti interventi molto brevi, molto sintetici e diretti e procederemo ad ogni domanda con risposta di Simona in modo che non ci sia l'accumulo diciamo delle domande. Io mi fermo qui e darei subito la parola a Simona che ringraziamo ancora. Sì, scusate la voce perché non sono stata bene l'ultima settimana, ma ce la facciamo. Buonasera a tutte e tutti, ringrazio diciamo Marco per questo invito perché per me ogni incontro e la preparazione di ogni incontro su questo tema è motivo come dire di approfondimento, dire di rilettura di tutti i rapporti più aggiornati sulla finanza pubblica locale, quindi è uno stimolo culturale anche insomma personale e quindi insomma è un piacere e poi sicuramente è anche per me l'occasione di uno scambio con gli altri relatori in questi percorsi insomma preziosi di autoformazione e di stimolo di riflessione insomma su questi temi. Io ho fatto forse una presentazione come al solito un po' lunga perché sono sempre un po' esagerata, ma considerato che la prossima settimana affronterete anche il tema dell'austerità, del PNRR, alcune cose magari su alcune cose vado davvero più veloce cercando di concentrare l'attenzione di stasera sulla lettura dei bilanci comunali. Allora, prima di appunto parlare del bilancio comunale devo fare una brevissima premessa sul contesto della finanza pubblica all'interno del quale poi i bilanci comunali si inseriscono. Il contesto è quello ovviamente dell'Europa e di quella che viene chiamata europeizzazione della finanza pubblica. Con l'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria così come tutti gli altri stati membri abbiamo sottoscritto degli accordi e dei trattati che hanno definito e stabilito tutta una serie di vincoli che riguardano la finanza pubblica nazionale che poi ovviamente hanno avuto delle ripercussioni sui bilanci comunali nella misura in cui l'Italia nel portare in Europa tutti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionali ha stabilito quindi in che misura ciascun livello di governo e quindi anche di spesa, quindi lo Stato, le regioni, province, comuni, dovessero contribuire al rispetto di questi vincoli. Sappiamo che nel 2012 c'è stata una modifica costituzionale, quindi l'introduzione all'interno della Costituzione del principio del pareggio di bilancio e dove di fatto si è costituzionalizzato il principio per cui i comuni debbano condividere insieme con lo Stato il rispetto di vincoli europei di finanza pubblica. Per molti questo ha significato mettere in discussione quello che dovrebbe essere l'autonomia finanziaria e organizzativa degli enti locali perché a partire dal 2009-2010 tutti questi vincoli sono stati sempre più stringenti, anche molto specifici, molto puntuali, molto entranti nella vita delle amministrazioni locali, per cui al punto che oggi si parla di crisi della democrazia di bilancio e della finanza pubblica nella misura in cui abbiamo di fatto perso un pezzo di potere sulla finanza in relazione al rispetto di questi vincoli. Penso a entrare nel merito dei vincoli, diciamo quelli più rilevanti tra l'altro sono quelli di cui si discute in queste settimane perché sapete che con la pandemia il patto di stabilità crescita è stato sospeso ma a partire da gennaio 2024 rientrerà in vigore e ovviamente la discussione che stanno affrontando gli Stati membri ora il 7 e l'8 dicembre verrà proprio discussa la bozza di riforma del patto di stabilità e crescita che rientrerà in vigore nel 2024. Sul piatto della bilancia c'è la finanza pubblica nazionale ma anche i bilanci comunali perché a seconda dell'intensità di queste norme e di come poi verranno declinate internamente nel nostro paese questo potrà avere delle ripercussioni anche sui bilanci comunali. I vincoli principali sono quelli che riguardano il rapporto tra deficit PIL e il debito pubblico PIL. Per quanto riguarda il deficit PIL la regola è che questo rapporto deve mantenersi al di sotto del 3% per quanto riguarda il debito pubblico PIL inferiore al 60%. Questo secondo parametro noi come paese non l'abbiamo mai rispettato cioè siamo entrati nell'unione monetaria già non rispettando questo vincolo mentre per quanto riguarda il deficit PIL quindi in alcuni anni siamo riusciti a rispettare questo parametro ma comunque sono parametri che anche in relazione alla grande emergenza pandemica che abbiamo vissuto finalmente sono stati messi in discussione nella misura in cui si è anche dimostrato che soprattutto in situazioni diciamo di crisi di questo livello così importanti sono assolutamente regole che non sono in grado di garantire la stabilità dei paesi anzi addirittura insomma ci hanno fatto affrontare un periodo molto più come dire faticoso impegnativo al punto poi da dover disattivare completamente queste regole. Come vedete dal rapporto della Corte dei Conti del 2022 attualmente i nostri parametri sono come dire sono fuori appunto dal rispetto dei trattati europei quindi abbiamo un rapporto deficit PIL a fine 2022 che è all'8% e il rapporto debito pubblico PIL che è salito quindi continua a salire ho fatto vari corsi con voi ecco non riesco mai a dare la notizia che questo rapporto scende no continua a salire e siamo al 144,4%. Nel 2022 è un po' in discesa rispetto al 2021 che è stato l'anno di picco però comunque siamo di gran lunga al di fuori di questi parametri qui vi ho messo quale è stato l'andamento dal 2019 anzi 2020 è stato c'è stato il picco del debito pubblico PIL e poi insomma ora siamo un po' in discesa comunque con uno sforamento abbastanza importante. Da considerare faccio sempre questa distinzione qualora non fosse chiara tra quello che il concetto di debito è quello che il concetto di deficit. Il deficit è la differenza negativa che c'è ogni anno tra tutte le entrate e tutte le spese della pubblica amministrazione quindi quando questa differenza è negativa quindi le spese superano le entrate si produce un deficit quindi si spende più di quello che il sistema diciamo della pubblica amministrazione incassa nelle entrate mentre il debito pubblico è lo stock di debito quindi il debito complessivamente accumulato quindi nel corso degli anni quindi il deficit che ogni anno si produce se si produce va a aumentare lo stock del debito pubblico complessivo. Come vedete questi due parametri hanno al denominatore il PIL quindi il rispetto del rapporto tra deficit PIL e debito pubblico PIL non dipende solo da quanto deficit lo Stato produce da quanto debito a quanto arriva lo stock di debito ma dipende anche dalle previsioni del PIL ecco perché questo la diciamo stimare il PIL è importante perché se il PIL è maggiore il rapporto a parità diciamo di deficit il rapporto migliore se il PIL è peggiore a parità di deficit il rapporto peggiora e questo significa che la possibilità di fare deficit o di fare debito si riducono perché le previsioni di PIL sono inferiori. In questa tabellina vi faccio vedere qual è la situazione diciamo del rapporto entrate e spese nel 2022 questo è il consuntivo 2022 di tutta diciamo la spesa della pubblica amministrazione italiana il totale delle entrate sono state 931 miliardi il totale delle spese 1000 miliardi abbiamo quindi un saldo primario negativo considerate che per anni per circa vent'anni in un lasso di tempo di vent'anni prima della pandemia forse ad eccezione di uno o due anni questa differenza fra entrate e spese è sempre stata positiva cioè abbiamo sempre avuto un avanzo primario quindi spendavamo meno di quello che entrava perché però si veniva ogni anno comunque a produrre un deficit questo era legato alla spesa per di interessi che come vedete nel 2022 è molto alta ed è schizzata tantissimo rispetto al 2020 e 2021 perché ovviamente l'aumento dei tassi di interesse ha delle conseguenze anche sul costo del nostro debito pubblico che è un debito pubblico importante nel 2022 se vedete sotto è di 2762 miliardi tra l'altro nella Nadef che sarebbe la nota di aggiornamento al documento di buonomi e finanza del governo si vede anche in che misura la parte del debito pubblico è anche legata al PNRR perché non ci dimentichiamo che una parte PNRR è debito quindi comporterà un ulteriore aumento del nostro debito pubblico nazionale se guardate i dati di agosto 2023 il debito è già a 2841 miliardi quindi siamo sempre in un percorso di crescita quindi dicevo il saldo primario è negativo la spesa di interessi si aggiunge l'indebitamento netto quindi il deficit che c'è stato nel 2022 è di 151,9 miliardi questi sono i dati del 2022 è importante l'avanzo primario perché vi dicevo per anni è stato positivo questo per dire che per tanti anni il deficit che come pubblica amministrazione si veniva a creare alla fine dell'anno non era dovuto al fatto che spendevamo più di quanto potessimo permetterci ma era dovuto al fatto che il pagamento degli interessi comportava la produzione di un deficit quindi il debito era diventato come dire generatore di ulteriore debito di interessi passivi in un circuito vizioso che che ci ha portato dove dove siamo ora. Qui sempre nella Nadef vi vi ho portato quali sono le previsioni di rientro del rapporto deficit PIL sostanzialmente a fronte di una previsione di PIL che dal 2024 all'1,4 2025 all'1,3 e 2026 l'1,1% il governo stima di rientrare nel rapporto tra il deficit PIL nel 2026 e per chiudere l'argomento proprio in questi giorni la diciamo la ridefinizione del patto di stabilità e crescita si gioca proprio sul tempo che viene dato agli stati per rientrare in questi parametri per essere molto sintetici e poi l'altro elemento quali spese possono essere tolte dal rapporto che produce il deficit e quindi quali sono le spese che possono uscire dal patto di stabilità e che quindi che non soggiacciono a questi vincoli. In quest'altra tabella che invece fa riferimento non ai dati della spesa della pubblica amministrazione del 2022 che abbiamo visto prima ma ai dati del 2019 possiamo vedere in che rapporto sta la spesa della pubblica amministrazione nel 2019 era 870 miliardi abbiamo visto nel 2022 931 la spesa e debito rispetto alla spesa al debito dei comuni quindi come vedete che a fronte di una spesa della pubblica amministrazione di 870 miliardi la spesa dei comuni è 62 miliardi quindi il 7,3 per cento della spesa pubblica nazionale e potete anche vedere il rapporto tra il debito pubblico italiano di allora 2400 miliardi rispetto al debito dei comuni che è di 35,6 miliardi pari all'1,5 per cento del debito pubblico nazionale quindi in realtà con tutte quelle che sono diciamo i vincoli finanziari di questi anni l'austerità e tutti i vincoli sui bilanci comunali in realtà i comuni hanno risanato i propri conti qui vi ho messo un grafico dove fa vedere bene qual è stata la tendenza del debito del settore pubblico complessivamente quindi che sale ma qui vedete una forbice quindi da una parte due linee che crescono e sono il debito pubblico totale e il debito pubblico delle amministrazioni centrali e dall'altra invece l'evoluzione del debito delle regioni delle province e dei comuni come vedete quindi a fronte di uno sforzo di taglio di risorse e di vincoli di bilancio che hanno portato ad una riduzione del debito degli enti territoriali fortissimo però diciamo tutto questo sforzo non ha comportato in termini di indicatori nazionali ad un miglioramento dei dati della finanza pubblica quindi in realtà gli enti territoriali hanno fatto uno sforzo enorme per consentire allo Stato di continuare a fare deficit e indebitarsi e oggi facciamo i conti diciamo con questa situazione qui invece vi ho fatto vedere come insomma una tabellina in cui si fa vedere a partire dal 2005 diciamo ufficialmente la stagione dei tagli delle risorse comuni si è conclusa ma in realtà al taglio delle risorse ai bilanci comunali si è sostituito l'obbligo di accantonare tutta una serie di risorse poi lo vedremo più avanti col fondo credi di dubbio esegibilità e qui si vede come a partire dal 2025 questi vincoli hanno comportato un progressivo aumento dei soldi che i comuni devono bloccare nei propri bilanci e non spendere sempre in un'ottica di conseguire sempre quegli obiettivi che vedevamo prima di finanza pubblica e questi due grafici fanno vedere come dal passaggio dai vincoli del patto di stabilità al passaggio diciamo dei nuovi vincoli che sono entrati in vigore anche con l'armonizzazione dei bilanci comunali quindi i nuovi bilanci che sono stati approvati nel 2015 hanno di fatto comportato un inasprimento dei vincoli per quanto riguarda diciamo territorialmente la situazione peggiorata per i comuni del centro e delle isole quindi questo passaggio dalla vecchia austerità alle regole di finanza pubblica che attualmente dobbiamo rispettare quindi hanno comportato un peggioramento per i comuni del centro ma soprattutto del sud delle isole in termini sia di obiettivi che devono raggiungere i comuni di riduzione della spesa ma anche in termini di avanzi disponibili cioè di risorse che alla fine dell'anno i comuni insomma possono utilizzare perché avanzano dall'anno precedente con centro e sud molto molto penalizzati mentre in quest'altra slide si vede come dal patto di stabilità agli accantonamenti che ora dobbiamo rispettare ci sia stata una penalizzazione in termini di diciamo dimensione dei comuni per i comuni più piccoli sotto i mille abitanti perché i comuni piccoli non avevano il patto di stabilità erano gli unici esclusi dal patto di stabilità invece ora come dire devono rispettare anche loro le nuove regole di finanza pubblica e i comuni diciamo a partire dai 25 30 mila abitanti fino ad arrivare comuni grandi sono quelli che oggi diciamo soffrono un po' di più quindi l'identikit del comune più sofferente con le nuove regole è soprattutto un comune del centro del sud comuni piccoli o comuni anche medio grandi entriamo quindi nel vivo dei bilanci comunali allora qui in questa slide metto in evidenza questo aspetto cioè spesso si parla del bilancio comunale come uno strumento tecnico difficile inaccessibile in realtà diciamo la cosa corretta è parlare del sistema quindi il bilancio è un sistema che comprende procedure atti documenti e anche competenze diverse che qui ho provato a sintetizzare a partire dal programma elettorale perché il candidato sindaco ovviamente quando si candida ad amministrare una città insomma presenta la cittadinanza un programma elettorale e nel momento in cui si installa e quindi si presenta la prima seduta del consiglio comunale il primo atto politico del sindaco è quello di tradurre quelle promesse contenute il programma elettorale e nelle linee programmatiche di mandato cioè obiettivi che come dire devono caratterizzare tutto il mandato dell'amministrazione quindi tutti i cinque anni quindi parliamo di obiettivi qualitativi accessibili quindi devono essere pubblicati sul sito del comune che a loro volta poi vanno ad alimentare il primo documento della programmazione economico finanziaria dei comuni che è il documento unico di programmazione è un documento introdotto diciamo negli ultimi anni quindi recente e si caratterizza per il fatto di essere il primo atto politico cioè di natura politica e di programmazione è la guida strategica dell'amministrazione perché dovrebbe come dire portare ad analizzare tutto quello che è il contesto interno esterno all'ente tradurre le linee programmatiche di mandato in obiettivi strategici in obiettivi operativi e tutto questo deve servire poi ad alimentare il deve trovare coerenza all'interno del bilancio di previsione che proprio il documento finanziario diciamo quello più tecnico per eccellenza ma con una valenza politica enorme quindi la cosa importante è ricordare che i numeri del bilancio di previsione devono essere coerenti con gli obiettivi strategici operativi contenuti nel documento unico di programmazione quindi c'è questa stretta coerenza il documento unico di programmazione viene approvato nel mese di luglio rispetto all'anno successivo quindi a luglio del 2023 i comuni hanno approvato il documento unico di programmazione 24 26 su questo il legislatore forse un po' esagerato nella tempistica perché questo documento è stato introdotto in tempi in cui i bilanci di previsione invece che approvarli a dicembre si approvavano a novembre quindi ad anno finito per cui ha voluto come dire dare un segnale sull'importanza della programmazione il fatto che si deve programmare prima che l'anno cominci il problema è che a luglio ovviamente siamo ancora a metà anno quindi ancora non abbiamo fatto un vero e proprio bilancio su bilancio in corso e quindi cosa succede che viene approvato a luglio il DUP ma poi a novembre prima dell'approvazione del bilancio di previsione viene approvata la nota di aggiornamento al DUP quindi consiglio suggerimento nell'idea di consultare e di leggere questo documento conviene consultare la nota di aggiornamento al DUP che viene approvata in genere entro novembre dai comuni ed è proprio quella che precede l'approvazione del bilancio comunale bilancio di previsione quindi che a cose normali dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno con a volte il legislatore nazionale con insomma approva delle diciamo rimanda questa data perché purtroppo la predisposizione del bilancio di previsione richiede di avere tutte le informazioni di cui i comuni hanno bisogno per chiudere il bilancio e queste informazioni sono anche legate ai trasferimenti dello Stato e trasferimenti regionali quindi tutta una serie di elementi che a dicembre non si sanno spesso non si sanno nemmeno quando viene approvata la legge di bilancio che il governo in genere approva l'ultimo giorno dell'anno quindi figuriamoci insomma ecco ecco perché spesso il bilancio di previsione quando viene approvato viene viene definito anche come bilancio tecnico cioè perché spesso il primo bilancio è quello che consente di come dire consentire la spesa diciamo nelle procedure ordinarie quindi evitare quello che si chiama l'esercizio provvisorio cioè di utilizzare risorse dell'anno senza l'approvazione del bilancio perché se non c'è il bilancio i comuni non è che non possono spendere possono spendere uguale ma ci sono dei limiti e dei vincoli specifici quindi per evitare questo i comuni approvano il bilancio il prima possibile quando hanno gli elementi e le condizioni per farlo però ecco spesso e volentieri un bilancio che non contiene tutta una serie di previsioni di entrate e di spesa perché sono collegati appunto ai trasferimenti che vengono come dire che diventano certi non prima spesso di marzo aprile comunque la tempistica è questa quindi nota di aggiornamento a doppio a novembre bilancio di previsione entro la fine dell'anno a cui poi seguono altri due documenti di programmazione il piano integrato delle attività dell'organizzazione quindi finora fino al bilancio di previsione come vedete la competenza è del consiglio comunale quindi il consiglio comunale approva il documento unico programmazione il consiglio comunale approva il bilancio di previsione sono i due atti di indirizzo di competenza del consiglio comunale più rilevanti dopodiché la palla passa all'aggiunta comunale quindi l'aggiunta comunale in relazione alle previsioni di bilancio approva il piano integrato delle attività dell'organizzazione questo è un documento recente stato introdotto nel 2021 con l'obiettivo di mettere insieme tutta una serie di piani che prima i comuni approvavano ma che erano scollegati tra di loro nel PIAO per esempio confluiscono tutti gli obiettivi della performance quindi gli obiettivi che vengono assegnati ai dirigenti e che devono essere ovviamente coerenti con gli obiettivi strategici e operativi che ci sono nel DUP il PIAO contiene il piano del fabbisogno del personale quindi le risorse umane le nuove risorse umane da assumere contiene il piano dell'anticorruzione il piano della trasparenza il piano delle azioni positive cioè le azioni da mettere in campo per garantire le pari opportunità all'interno dell'amministrazione il benessere organizzativo quindi tutto il piano della formazione quindi tutta una serie di piani che prima erano completamente scollegati confluiscono in questo documento che è il documento con il quale appunto l'aggiunta comunale affida gli obiettivi alla struttura amministrativa. Questo avviene anche con il piano esecutivo di gestione che però si caratterizza quindi sia per essere un documento descrittivo dove ci sono tutti gli obiettivi affidati alla struttura ma anche un documento contabile perché il bilancio di previsione si spinge nel suo spacchettamento di tutti i capitoli di bilancio ad un livello più alto mentre il piano esecutivo di gestione detto anche PEG va a declinare in maniera più dettagliata le risorse che sono contenute nel bilancio di previsione in modo proprio da assegnare i singoli capitoli ai singoli uffici per il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'amministrazione quindi come vedete la mole di documenti di programmazione è elevatissima cioè ci tocca per programmare predisporre e aggiornare ogni anno tutti questi documenti che sono veramente tanti. Mentre la parte di rendicontazione sostanzialmente da un punto di vista della numerosità dei documenti è più è più diciamo sintetica perché abbiamo il rendiconto della gestione quindi a fine anno una volta chiuso il bilancio entro il mese di aprile tutti i comuni devono approvare il rendiconto della gestione salvo ovviamente deroghe previste dal legislatore e il rendiconto della gestione che dà atto di tutti i risultati quindi obiettivi risorse utilizzate è un documento importantissimo e il bilancio consolidato dove sostanzialmente si aggregano un po i dati del bilancio del comune con i dati delle società partecipate quindi una sorta di bilancio dove confluiscono un po tutte le informazioni anche delle società partecipate. Come vedete sulla nella fase di rendicontazione si ritorna in consiglio comunale quindi sono gli atti con cui il consiglio comunale esercita l'attività di controllo sull'operato dell'amministrazione. Andando più avanti eccoci qua allora i soliti documenti ve li ho messi anche diciamo in questo modo in questa raffigurazione perché il senso è un pochino questo ci deve essere la programmazione dei comuni è ciclica cioè questo questo circuito si realizza ogni anno ogni anno c'è il duppo il bilancio di previsione il piano integrato il piano esecutivo il rendiconto bilancio consolidato in questa circolarità dei documenti la cosa importante allora quelli in giallo sono quelli che vi ho messo in evidenza in giallo perché sono quelli che hanno una valenza politica cioè sono documenti che non possono essere considerati tecnici e quindi come dire no sono troppo difficili non li comprendo va bene non approccio a questi documenti in realtà come andremo a vedere o poi vi suggerirò i documenti di andare a consultare sono documenti dove ci sono tante parti qualitative discorsive che sono assolutamente accessibili ovviamente la difficoltà è la è il volume di questi documenti perché io non in questi giorni per preparare questo incontro ho guardato il il bilancio del comune di roma di milano e napoli un po sbirciato questi tre bilanci ovviamente il comune di roma ci sono 25 allegati alla delibera del bilancio di previsione però io spero che oggi dandovi una serie di informazioni siate in grado un po più di orientarvi e di andare a capire in quella mole di documenti quali sono quali possono essere utili per capire qualcosa dei dei bilanci dei vostri comuni quelli diciamo i documenti politici sono quelli gialli cioè sono quelli che dovremmo andare come dire in un'ottica di ecco di comprensione di e di governo della locale più partecipato sono quelli su cui ci può essere un impegno della cittadinanza ad una comprensione quelli che ho evidenziato in blu quindi il pia o il peg quelli si sono documenti direi più tecnici più interni all'amministrazione perché sono quelli in cui poi la macchina amministrativa riceve diciamo le indicazioni per realizzare gli obiettivi la cosa importante che in tutto questo ciclo non ci sono solo risorse finanziarie girano risorse immobiliari quindi perché spesso gli obiettivi e le strategie inserite in questi documenti implico di avere la disponibilità di beni immobili attrezzature risorse umane quindi è importante tener conto che non tutte le attività gli obiettivi necessitano di risorse finanziarie ma sicuramente necessitano per esempio di risorse umane strumentali di disponibilità di beni immobili ecco sono aspetti che spesso vengono trascurati e invece hanno una una rilevanza importante allora quindi gli input quali sono per cui gli input del bilancio di previsione prima parlavo del documento unico di programmazione perché è un documento importante perché nel documento unico di programmazione innanzitutto l'amministrazione prima di andare a dire cosa metto nelle entrate cosa metto nelle spese del mio bilancio deve andare a fare un'analisi del contesto esterno e interno all'ente quindi quali sono i vincoli e le opportunità se andate a leggere questi paragrafi quindi analisi del contesto esterno e interno ovviamente ci sono tutta una serie di dati e informazioni sulla finanza nazionale e regionale quelli che vi facevo vedere prima sono i punti di partenza perché il bilancio si costruisce anche in funzione di quelle che sono le risorse che provengono dagli enti diciamo dallo stato e dalle regioni ma in parte di questa analisi del contesto molti comuni la stanno arricchendo con l'esito dei percorsi partecipativi spesso la percezione che i percorsi partecipativi vengono svolti poi non hanno un esito è una sensazione spesso diffusa e a volte anche a ragione di alcuni cittadini che lamentano questa ok io partecipo viene fatto un evento e poi tutto finisce lì la cosa interessante è che molti comuni stanno lavorando sul inserire all'interno del documento unico di programmazione l'esito dei percorsi partecipativi perché quegli esiti devono entrare a far parte della programmazione dell'amministrazione dell'analisi del contesto prima di stabilire in che modo stanzo le risorse nel bilancio devo tener conto anche di quelli che sono stati gli esiti dei processi partecipativi che ho portato avanti quindi la prima una cosa che potreste verificare all'interno del DUP del vostro comune è se c'è questa attenzione da parte dell'amministrazione c'è una sezione dedicata all'esito dei processi partecipativi quindi se c'è un buon segno perché significa che l'amministrazione vuol tener conto prima di costruire il proprio bilancio dei bisogni e delle esigenze che sono emersi all'interno dei percorsi partecipativi portati avanti dal NENTE. Poi vabbè c'è l'altro elemento importante il documento unico di programmazione contiene lo stato di attuazione dei programmi cioè nel documento unico a proposito della circolarità che vi facevo vedere prima riprogrammare ogni anno significa anche prendere in considerazione quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto e magari anche dire perché non è stato fatto e quindi riprogrammare un obiettivo non raggiunto e rimodorare o riproporlo all'interno del DUP e poi del bilancio. Quindi questa parte è descrittiva cioè mette in evidenza quelli che sono obiettivi che l'amministrazione si era data se sono stati raggiunti perché no. Quindi anche questa parte del documento unico di programmazione non sono numeri sono quindi obiettivi che potresti andare ad analizzare e quindi a valutare magari scegliendo i temi di interesse perché ovviamente anche questa parte è molto lunga però se vi interessa capire sul tema ambientale quali sono le politiche e gli obiettivi che l'amministrazione si è data in che modo li rendi conta, li ha raggiunti, riprogramma le attività e quindi poi magari dopo andare a vedere il bilancio e le risorse che sono state messe in ente. Quindi questi dovrebbero essere gli input del bilancio di previsione oltre al fatto che il bilancio dovrebbe chiaramente finanziare le funzioni fondamentali assegnate ai comuni. Su questo vi ho messo questa forbice con la spending perché purtroppo le funzioni fondamentali dei comuni non hanno ancora trovato come dire una definizione all'interno di un contenitore autonomo rispetto a quelli che sono i vincoli di finanza pubblica. Cioè ad oggi c'è un decreto del 2010 quindi di spending review che è quello nel quale si definiscono le funzioni fondamentali dei comuni che purtroppo in quella collocazione mettono in evidenza il fatto che ci sia ancora, cioè ci sia una subordinazione delle funzioni fondamentali dei comuni rispetto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Quindi vi ho messo quella forbice per richiamare questa cosa. Allora a questo punto entriamo un po' più nel vivo e quindi da quali documenti conviene partire per provare a studiare il bilancio del vostro comune? Io il suggerimento che vi do è limitato a tre documenti in particolare. La relazione dell'aggiunta comunale a rendiconto. Quindi il primo punto è non partiamo dal bilancio di previsione perché poi lo vedremo. Il bilancio di previsione viene modificato n volte nel corso dell'anno. È un documento vivo che cambia ed è anche diciamo fisiologico che ci siano tutti questi cambiamenti perché fare una previsione inizio anno, poi ci sono 800 imprevisti, 800 diciamo anche finanziamenti nuovi che arrivano. Quindi non ha senso stare dietro al bilancio di previsione nell'ottica di uno studio, come dire, di un'analisi del bilancio del vostro comune. Partiamo dal rendiconto della gestione dell'ultimo anno e magari non mettendosi a leggere proprio il conto del bilancio che è veramente complicato, ma prendendo la relazione dell'aggiunta comunale perché questo è un documento diciamo recente, l'aggiunta comunale quando presenta il rendiconto deve predisporre una relazione che in maniera io credo abbastanza chiara, ovviamente poi ci sono dei concetti contabili un po' difficili, però è sicuramente il documento più accessibile che può aiutarvi a capire un po' come funziona il bilancio del vostro comune, quali sono le caratteristiche principali, punti di forza e di debolezza. La relazione dell'aggiunta quindi ve la potete scaricare perché la trovate pubblicata, è un documento di partenza per studiare il bilancio del vostro comune. L'altro documento è la relazione dei revisori dei conti al rendiconto perché ci sono dei revisori quindi esterni dei soggetti indipendenti che spulciano il rendiconto, lo valutano, lo analizzano e predispongono una relazione e anche questa relazione molto discorsiva prende dei dati del bilancio, fa delle analisi ed è quindi un documento che vi può aiutare a leggerlo. Il terzo documento è il bilancio semplificato per il cittadino, anche questo è un adempimento degli ultimi anni, quindi i comuni devono predisporre un bilancio o rendiconto, alcuni lo chiamano bilancio, alcuni rendiconto semplificato per il cittadino, anche questo molto più accessibile rispetto alla matassa dei documenti tecnici che ci tocca come dire predisporre e pubblicare. A partire da questi documenti quali sono gli ambiti che io vi propongo di indagare? La gestione di competenza, ora andiamo a spiegare di cosa si tratta, la gestione dei residui, l'indebitamento, gli equilibri di bilancio e il risultato di amministrazione. Ora li andiamo ad analizzare, quindi questi possono essere gli ambiti da indagare e poi ovviamente ora analizzando voi potreste dire mi interessa solo una parte, ho pensato anche un po' seguendo l'indice di queste relazioni, quindi ho provato proprio a vedere qual era la struttura comune alle varie relazioni in modo tale che voi anche riguardando queste slide potete andare a ritrovare questi concetti e questi titoli all'interno del documento del vostro comune. Dove trovate queste cose? Le trovate nella sezione amministrazione trasparente che c'è in ogni sito di ogni comune in due sezioni, la sezione dei bilanci dove a regola è contenuto tutto lì dentro, quindi trovate bilanci preventivi, consuntivi, ogni anno c'è il rendiconto consuntivo di quell'anno. Nel caso in quella sezione non trovate la relazione dei revisori dei conti, quella la trovate, alcuni comuni la mettono dentro la sezione controlli e rilievi dell'amministrazione, quindi alcuni comuni correttamente anche per una questione di facilitazione la mettono nella sezione dei bilanci, se non la trovate lì la relazione dei revisori la trovate nella sezione controlli e rilievi sull'amministrazione. Allora qui ho messo gestione, cosa significa andare ad indagare la gestione di competenza? La gestione di competenza significa andare a vedere le entrate e le spese, analizzare le entrate e le spese di quell'anno, a cui poi si aggiungono altri indicatori che vediamo in altre sezioni. Quindi la gestione di competenza è cosa è successo in quell'anno, quali sono le risorse che sono entrate, quali sono le risorse che sono state spese, le dinamiche di quello specifico hanno di riferimento. Il bilancio, anche qui, io vi ho riportato lo schema per dirvi cose in questa slide, che non serve andare ad analizzare tutte le voci di entrate e tutte le voci di spesa. Dov'è il cuore, come dire, di quello che è il bilancio politico, chiamiamolo così, sono in quella, diciamo, in quelle parti che vi ho evidenziato sopra il rigo rosso. Allora, per quanto riguarda le entrate, sono rilevanti i primi quattro titoli, cioè le entrate di natura tributaria, cioè tutte le tasse che entrano, i trasferimenti correnti, le entrate extra tributarie e le entrate in conto capitale. Ora le andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si parla. Quindi questa è la parte su cui potete concentrare la vostra attenzione. Il resto è trascurabile. È trascurabile perché? Vabbè, entrate da riduzione di attività finanziarie, sono eventuali alienazioni di titoli o di quote di società partecipate di tenute. In molti comuni questa entrata è pari a zero. Se c'è, magari la indagate, se no, insomma, spesso è pari a zero. Accensione di prestiti, in quel caso trovate questa parte indagata nella parte dell'indebitamento che poi vediamo, comunque questa è la voce dell'entrata che fa riferimento ai prestiti che in quell'anno l'amministrazione prende, quindi mutui e prestiti. Le anticipazioni dal tesoriere sono anche queste dei prestiti, però sono proprio dei prestiti a brevissimo termine, cioè sono quegli anticipi che il tesoriere, cioè la banca che generalmente gestisce il conto corrente del comune, concede al comune in caso di mancanza di liquidità. Faccio un esempio, la maggior parte delle entrate, poi lo vedremo, dei comuni è legata alle tasse e la maggior parte delle tasse comunali vengono pagate al comune a giugno, però ci sono tanti impegni e tanti pagamenti che l'amministrazione deve fare già dal primo gennaio. Quindi cosa succede? Ci possono essere dei momenti in cui nella cassa comunale proprio manca la liquidità necessaria ad affrontare quei pagamenti. Allora in quel caso il comune attiva con la tesoreria un prestito di liquidità, quindi dammi 100 mila euro perché devo pagare gli stipendi, appena quando arriva giugno le tasse, quindi la liquidità viene ripristinata, il comune restituisce al tesoriere questo prestito. Quindi sono prestiti che si aprono e si chiudono nel corso dell'anno. Ovviamente anche qui ci sono degli interessi da pagare ma sono prestiti talmente brevi che non hanno un valore così importante e spesso, lo potete vedere anche nei bilanci dei vostri comuni, i comuni in via precauzionale approvano il bilancio prevedendo un'anticipazione. Fortunatamente molti comuni poi chiudono il bilancio con questa entrata pari a zero rispetto alla previsione iniziale e pari a zero perché se non hanno bisogno di attivare questo prestito non lo attivano e questo è un risparmio per l'amministrazione. Quindi anticipazioni sono presti a breve termine, chiusi entro l'anno e poi le entrate per conto terzi e partite di giro sono entrate collegate a spese diciamo per partite di giro. Un esempio è l'IVA, cioè quando il comune mette fatture e c'è l'IVA credio e debito con lo Stato, l'IVA transita di qui. Oppure tutte le trattenute che vengono fatte sugli stipendi dei dipendenti, quindi è una sorta di entrata nella misura in cui il comune trattiene quella parte di stipendio del lavoratore e quindi entra nelle casse comunali ma poi paga gli enti previdenziali e quindi versa queste risorse agli enti previdenziali e quindi lo troviamo nelle spese per conto terzi. Questa parte quindi ha una natura tecnica del bilancio, non ha alcun valore politico, quindi questa è la parte del bilancio in questo senso che possiamo trascurare. In maniera corrispondente per le spese la parte rilevante del bilancio sono le spese correnti e le spese in conto capitale. Le spese per incremento di attività finanziaria sono acquisizioni di titoli, di quote di società, le spese per rimborso prestiti sono spese legate al rimborso della quota capitale dei prestiti che l'amministrazione ha preso ma tanto la troviamo nella sezione indebitamento, chiusura anticipazioni dal tesoriere, quindi questa cifra è sempre corrispondente all'entrata e si chiude nel corso dell'anno e spese per conto terzi. Quindi ci concentriamo, concentriamo la nostra attenzione nell'analizzare il bilancio comunale solo su queste entrate e su queste spese. Qui vi ho voluto mettere questo a sé per precisare alcuni concetti, cioè quelle che sono le entrate e le spese previste, le entrate e le spese accertate e impegnate e i pagamenti e le riscossioni perché sono tre cose diverse. Quindi un conto è la previsione iniziale all'interno del bilancio, previsione di entrata, previsione di impesa, sono quello che il comune prevede di riscuotere quello che il comune prevede di pagare, ma sono previsioni e sono previsioni che devono essere specificate sia di competenza, cioè di competenza di quell'anno, ma anche di cassa. Faccio sempre l'esempio sullo stipendio del personale. Una parte dello stipendio del personale non viene, lo stipendio di quell'anno è una spesa di competenza, quindi i stipendi del 2023 vengono messi nel bilancio 2023 nella spesa di competenza del 2023. C'è però una differenza tra quando vengono pagati effettivamente, perché per esempio il salario accessorio, tutta quella che è la produttività che viene data ai dipendenti, non viene pagata entro il 31 dicembre, ma viene pagata a giugno, dopo che sono stati fatti tutta una serie di atti. Quindi nel prevedere la spesa bisogna tener conto sia della competenza, cioè quella spesa di competenza di quell'anno, ma anche della cassa, cioè quando materialmente io pagherò quelle risorse. Questa differenza di previsione fra competenza e cassa la trovate solo riferita al primo anno del bilancio di previsione, il bilancio è triennale, quindi le previsioni sono per tre anni. Quindi se trovate questa differenza è perché il legislatore oggi ci chiede anche di fare una previsione anche sulla effettiva spesa e le effettive riscossioni. Quindi le previsioni di entrate e di spesa sono un punto, quelle previste inizialmente e poi mano mano variate nel bilancio. Altra cosa sono le entrate effettivamente accertate e le entrate riscosse, perché le entrate accertate sono quelle che vengono confermate durante l'anno perché c'è un titolo giuridico che ci consente di dire ok io avevo previsto che entrava 100, 100 entra. Facciamo un esempio, un contributo che viene dalla Regione. Il sindaco è stato rassicurato, questa entrata ci sarà, la Regione ci darà questi soldi, quindi viene fatta una previsione di entrata di 100. Dopo sei mesi, magari a giugno, la Regione ci comunica il decreto con cui ci dice il Comune di Rosignano ha ricevuto 100.000 euro, quindi confermiamo il contributo, a quel punto con quel decreto regionale che conferma quel contributo io dirigente posso fare un atto di accertamento e quindi dire ok confermo, quell'entrata ci sarà e quindi faccio l'accertamento dell'entrata. Quindi l'entrata accertata significa che è un'entrata che viene confermata rispetto alla previsione. Quando la riscuoto, per esempio la Regione magari mi può dire a giugno che il finanziamento viene assegnato al Comune, ma che l'erogazione del contributo ci sarà materialmente l'anno successivo, magari dopo la rendicontazione. Quindi la riscossione può essere un altro momento ancora successivo. Questo è importante perché poi vedremo alcuni concetti che sono collegati proprio a entrate accertate, entrate riscosse, così come spese impegnate e spese pagate. Quindi come le entrate accertate e riscosse c'è il concetto di spesa impegnata, cioè quella spesa che io posso confermare che farò perché per esempio ho stipulato il contratto con il fornitore per l'acquisto del PC, prima di stipulare il contratto impegno la spesa, cioè la blocco e a quel punto posso stipulare il contratto di fornitura. Non è detto che paghi subito, quindi poi il momento in cui pagherò sarà il momento in cui poi i PC materialmente arrivano in Comune, ho ricevuto i prodotti, ho verificato che sono a norma, che vanno bene e quindi poi c'è il pagamento. Fatte queste distinzioni introduco anche il concetto di fondo pluriennale vincolato perché anche questo è un concetto che vorrei che capiste perché è uno di quegli indicatori che poteste trovare nel bilancio e avere necessità di capire. Il fondo pluriennale vincolato è anche uno strumento che il legislatore ha introdotto ed è collegato a entrate che sono state accertate in un anno, quindi supponiamo che due anni fa il Comune ha ricevuto un finanziamento per fare un investimento. In genere il fondo pluriennale vincolato riguarda le opere pubbliche e gli investimenti. Però è chiaro che il contributo magari l'ho ricevuto e l'ho ricevuto per l'intero del suo valore, ma il tempo di fare la gara, affidare lavori, gli stati avanzamento possono passare anche anni. Quindi cosa succede? Cosa ci dice il legislatore che dobbiamo fare? L'anno in cui abbiamo ricevuto il finanziamento accertiamo l'entrata, quindi accerto 100. Quei 100 però non li spendo tutti quell'anno, magari il primo anno spendo 10 perché faccio il progetto, il secondo anno spendo 20, 30 e così via. Quindi il fondo pluriennale vincolato che cos'è? È una sorta di salvadanaio dove io devo andare a mettere, insomma, a bloccare tutte quelle risorse che ho già accertato in entrata ma che spenderò in futuro, ok? Quindi è un fondo dove vanno a confluire risorse che già sono entrate ma che ancora non ho speso e che spenderò negli anni successivi. Poi ci ritorniamo, così intanto ve l'ho introdotto. Allora, detto questo, io ho preso un po' dei numeri di questi tre comuni, tanto per, come dire, spiegare dei concetti ma avere anche degli esempi concreti. Il comune di Milano, il comune di Roma e il comune di Napoli. Quindi siamo andati nord, centro, sud. Questo è l'esempio del bilancio del comune di Milano. Ho preso il rendiconto 2022. Qui si vede che la previsione iniziale, quindi quando il comune di Milano l'anno scorso ha approvato il bilancio di previsione, prevedeva le entrate 10 miliardi e nelle spese 10 miliardi di euro. Dopo X variazioni, che cosa è successo? Allora, un conto sono le entrate accertate e le spese impegnate. Come vedete, da 10 miliardi di previsioni iniziali, in realtà il comune di Milano nel 2022 ha accertato 4,2 miliardi di entrate. Quindi in quell'anno le risorse nuove che sono entrate sono state di 4,2 miliardi. È il quadro complessivo delle entrate di quell'anno? Non è sufficiente, perché se poi andate a vedere nei documenti, nel quadro economico complessivo, in realtà le entrate totali sono state di 6 miliardi. Perché? Perché sempre nel 2022 è entrato nel bilancio del comune di Milano l'avanzo del 2021. Quindi durante l'anno, una volta approvato il rendiconto del 2021, Milano ha verificato di avere un avanzo di 749 milioni, quelle entrate sono entrate nel bilancio del 2022. Quindi non sono entrate nuove, ma sono entrate dell'anno precedente che non sono state spese e che quindi confluiscono nel bilancio in corso. E poi appunto c'è il fondo pluriannale vincolato, quello che vi dicevo prima, cioè risorse che sono entrate negli anni precedenti e che dovrebbero, che vengono spese però nel 2022 e quindi le entrate totali sono state di 6 miliardi. Per quanto riguarda le spese invece impegnate da 10 miliardi in realtà sono state impegnate 3,9, ma le spese totali sono state di più grazie al fatto che col fondo pluriannale vincolato, quindi risorse che provengono dal passato, sono state quindi messe nella spesa totale, perché allora bisogna fare questa differenza, quando il fondo pluriannale vincolato lo vedete in entrata, significa che lì in quell'anno sono state prese una parte di risorse degli anni precedenti e utilizzate in quell'anno, quindi in questo caso il fondo è messo in entrata perché ci sono 740, anzi 1 miliardo e 100 che sono entrati in anni precedenti che vengono consumati nel 2022. Quando il fondo pluriannale vincolato lo trovate invece nella spesa, quindi 1 miliardo e 22, significa che sono risorse che vengono invece rimandate al futuro. Quindi il fondo pluriannale vincolato che entra quell'anno sono risorse precedenti che spendo quell'anno, nel 2022. Quando il fondo lo trovate nella spesa significa che il comune di Milano rimanda in futuro 1 miliardo e 222 milioni di spesa. Qui vi ho messo il dato, questo è come se fosse il bilancio di tutti i comuni, quindi come si articola nelle entrate che abbiamo visto. Come vedete la maggior parte delle entrate sono entrate correnti, cioè entrate tributarie, trasferimenti e extradributari, quindi i primi tre titoli che vi facevo vedere prima, in totale sono 64 miliardi, dopodiché vengono le entrate in conto capitale, 11 miliardi e mezzo, entrate da riduzione finanziaria 968 milioni, entrate da prestiti. Questa è la somma di tutti i bilanci comunali dell'anno 2019. Cosa che vi faccio anche notare è che negli anni dell'austerità la metamorfosi che hanno subito i bilanci comunali è stata questa, cioè un aumento importante delle entrate tributarie, dal 2010 al 2019 sono aumentate del 63,4%, a fronte di una riduzione invece dei trasferimenti correnti del 32,3%. Quindi la parte dei bilanci che oggi pesa di più è quella dei tributi, quindi le entrate proprie dei comuni, a fronte dei trasferimenti correnti che si sono ridotti perché lo Stato e le Regioni hanno ridotto progressivamente il proprio contributo ai comuni. Qui vediamo, e sempre per darvi l'esempio di come cambia il comune durante l'anno, nel rendiconto del comune di Roma, quindi ora ci trasferiamo a Roma, in questo grafico si vedono le previsioni definitive del bilancio, quindi nemmeno quelle iniziali, ma quelle definitive, quindi dopo tutte le variazioni, quanto il comune ha effettivamente accertato in entrata e quali sono le riscossioni di competenza. Se vedete, diciamo, le due voci dove la differenza tra previsioni e accertamenti è più elevata, diciamo, è quella delle entrate in conto capitale e mediamente in tutti i comuni è così, cioè si parte con un bilancio in cui le previsioni delle entrate in conto capitale sono elevate perché magari si spera in contribuzioni per gli investimenti e spesso e volentieri poi il bilancio si chiude con degli accertamenti che sono molto inferiori, quindi questa è la parte del bilancio che si sgonfia di più. Qui invece con i dati, ritorniamo a Milano, del comune di Milano, vediamo cosa contengono le varie voci dell'entrata, quindi le entrate tributarie, che a Milano sono un miliardo e quattrocentoventotto milioni, pesano tantissimo l'IMU, l'IRPEF e la tassa dei rifiuti e questo riguarda, diciamo, i comuni d'Italia. Se poi andrete a leggere i dati del vostro comune, le proporzioni sono di questo tipo, cioè la maggior parte delle entrate dei comuni è qui, le tasse proprie. Il comune di Milano ha anche il fondo di solidarietà comunale, ora ve lo spiego tra qualche minuto. Poi i trasferimenti correnti, quindi da Stato e regioni, quindi come vedete nel caso di Milano è soprattutto la regione, ma in Milano c'ha anche nei trasferimenti le sponsorizzazioni dalle imprese, che danno 10 milioni di euro al comune. E poi le entrate extra tributarie, qui dentro cosa ci sono? Tutte le multe, quindi sanzioni al codice della strada, l'erogazione dei servizi pubblici erogati direttamente dal comune, per esempio le rette dei nidi, la mensa, il trasporto scolastico, i parcheggi a pagamento, se il comune gestisce direttamente i parcheggi a pagamento, eccetera. La gestione dei beni, quindi le concessioni di affitti che il comune dà sui propri beni, interessi attivi sulla cassa che è presente in tesoreria, i dividendi da società partecipate. Ci sono comuni che insomma in entrata hanno anche i dividendi nelle proprie società, i dividendi vanno dentro le entrate extra tributarie. Quindi questo per dire quali sono gli aspetti e gli elementi che potete andare ad indagare in questa parte del bilancio comunale. Le entrate in conto capitale, guardate la differenza, le entrate correnti sono al comune di Milano 3 miliardi e 318 milioni, le entrate in conto capitale 498 milioni, quindi molto di meno, questo per vedere anche l'entità. Le entrate in conto capitale provengono da vendite di beni immobili permessi a costruire, quindi tutta l'attività di edilizia privata, quindi tutti permessi a costruire, sci, insomma tutta una serie di interventi che riguardano opere private, rappresentano un'entrata per le amministrazioni comunali e poi i contributi da pubbliche amministrazioni per investimenti, quindi vanno qui dentro, eventualmente anche risorse del PNRR sono qui. Il fondo di solidarietà comunale, abbiamo visto che per Milano il fondo di solidarietà comunale è una partita in entrata, 20 milioni ha preso il comune di Milano nel 2022. Cos'è il fondo di solidarietà comunale? Il fondo di solidarietà comunale è il sistema periquativo attraverso il quale lo Stato preleva risorse dai comuni fiscalmente più forti per ridistribuire queste risorse sui comuni fiscalmente più deboli. Di fatto è un meccanismo, quindi semplifico molto per farvi capire, è un meccanismo attraverso il quale sostanzialmente lo Stato senza metterci un euro, ha praticamente finanzia gli altri comuni, ma in realtà sono comuni che finanziano altri comuni per garantire la spesa storica e quindi soprattutto sui servizi. Quindi è un meccanismo in cui alcuni comuni appunto ricevono risorse, per esempio nel caso comune Rosignano è un'uscita di 5 milioni di euro, quindi ogni anno alcuni di Rosignano vengono tolte 5,2 milioni di euro perché vanno a finanziare gli altri comuni e questo strumento è diventato talmente assurdo nella misura in cui siamo arrivati nel 2021 al fatto che oltre a essere un meccanismo totalmente orizzontale e non verticale, quindi uno strumento per equativo orizzontale, cioè i comuni che si finanziano tra di loro, ma 286 milioni di questo fondo sono arrivati a finanziare anche lo Stato, quindi addirittura siamo arrivati al punto che non solo lo Stato si ritira ma si finanzia con i soldi delle amministrazioni locali. Passiamo alle spese perché vedo che già siamo alle 7.11, qui ci sono i dati, le spese correnti di tutti i comuni, anche qui per farvi vedere quali sono le voci di spesa su cui i comuni investono, insomma spendono di più, allora tutte le entrate correnti finanziano, quindi i primi tre titoli delle entrate che abbiamo visto prima finanziano le spese correnti, questa è la regola, mentre le entrate in conto capitale finanziano le spese in conto capitale. In questa diciamo a livello di comparto dei comuni vi faccio solo notare che nel corso del 2010-2019 la spesa del personale è diminuita del 16,3%, quindi la spending review si è fatta su questa voce della spesa dei comuni, a fronte però di un aumento dell'acquisto di beni e servizi, questa voce di spesa che è il 14,8%, che sono tutte le esternalizzazioni. Cioè in questi anni c'è stato il blocco delle assunzioni, i comuni hanno risparmiato tantissimo sulla spesa del personale, ma tutto ciò è stato più che compensato da un aumento della spesa per esternalizzazioni, tant'è vero che nel complesso, come vedete giù, la spesa corrente dei comuni nella 2010-2019 è aumentata del 2,3%, quindi c'è stato solo un travaso da una parte all'altra. La grande, diciamo, l'altra grande parte di spending review si è fatta sulla spesa in conto capitale, quindi spesa del personale, spesa cioè investimenti che sono stati tagliati e infatti si vede qui nel periodo 2010-2019 la riduzione della spesa in conto capitale dei comuni è stata del 24,9%, quindi nei dieci anni di austerità i comuni hanno risparmiato sulla spesa del personale, hanno risparmiato, insomma, i comuni sono stati svuotati dei dipendenti e la spesa di investimenti e qui insomma vado avanti per questa è la ripartizione della spesa del comune di Roma, quindi qui ritorniamo a Roma, dove come vedete le spese correnti contano per l'89%, quindi la maggior parte della spesa dei comuni è nella spesa corrente, la spesa per investimenti solo il 7% e poi incremento per attività, rimborso prestiti eccetera. Allora, quando andiamo ad analizzare la spesa corrente la possiamo fare, diciamo, analizzandola da due punti di vista diversi, la spesa corrente per macro aggregato, la spesa corrente per missione. Nella spesa corrente per macro aggregato spezzettiamo quindi la spesa del comune per la natura economica della spesa, ovvero con la spesa per macro aggregati vediamo quanto l'amministrazione spende per gli stipendi, redditi da lavoro dipendente, che come vedete è il 22,55%, la parte però più rilevante, come vi dicevo anche prima, è l'acquisto di beni e servizi, cioè tutte le esternalizzazioni ma anche gli acquisti che l'amministrazione fa per gestire direttamente i servizi o per pagare le utenze, per pagare la carta, il carburante delle auto eccetera eccetera, però ecco, la maggior parte della spesa è spesa di personale, quelli sono stipendi, e acquisto di beni e servizi, quindi se prendessimo il comune di Roma basterebbe analizzare solo questa voce, perché la maggior parte della spesa corrente, il 63,66% è questa parte di spesa e poi ci sono tutte le, nella spesa corrente troviamo anche gli interessi passivi, quindi quanto spende il comune di interessi passivi. L'altra, la solita cifra, quindi la solita spesa corrente, che per Roma mi sembra sono 3 miliardi e qualcosa, quindi così la vediamo per macro aggregati, ma la solita cifra, quindi spesa corrente 2022, la vediamo spezzettata per missioni, cioè per quelle che sono le funzioni fondamentali dei comuni e quindi in questa divisione della spesa corrente vediamo quanto il comune spende per servizi istituzionali generali di gestione, quindi come vedete le voci di spesa, se lo vediamo per macro aggregato, le voci di spesa più rilevanti sono personali e acquisto di beni e servizi. Se lo vediamo per missioni, vedete che il comune di Roma, ma anche gli altri comuni, la spesa più importante riguarda il funzionamento della macchina amministrativa, quindi servizi istituzionali, diritto allo studio e istruzione, sviluppo sostenibile e tutela del territorio, trasporti e diritto alla mobilità, diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Vado avanti. La spesa per missione, se siete interessati ad approfondire, può essere a sua volta spacchettata in programmi, quindi prima vedevamo la missione che era diritti sociali, politiche sociali e famiglie, che è la numero 12, a sua volta poi si spacchetta in infanzia e minori asili nido, interventi per la disabilità, interventi per soggetti a rischio di esclusione, eccetera. Vi do queste chiavi di lettura perché è il modo in cui potete mano a mano scendere sempre di più nel dettaglio del bilancio comunale. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, anche qui la spesa in conto capitale può essere letta per missione oppure per tipologia, poi lo vediamo. Questa ripartizione per missione è quella più interessante perché qui potete vedere su quale linee di intervento l'amministrazione ha fatto gli investimenti. quindi qui vediamo che le missioni che rilevano di più sono istruzione in diritto allo studio, significa che l'amministrazione ha fatto 3 milioni di investimenti sulle scuole, quindi qui parliamo di investimenti. Tutele e valorizzazione dei beni culturali, 13 milioni, oppure un'altra parte rilevante, assetto del territorio ed edilizia abitativa, qui ci sono anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sviluppo sostenibile, tutela del territorio, 21 milioni e 8, eccetera, eccetera. Allora questa è la gestione di competenza, quindi è un'analisi di tutte le entrate e le spese di quell'anno. L'altro indicatore importante sono i residui attivi e passivi e qui vi ho messo del comune di Napoli, di Roma e di Milano, li vediamo tutte e tre insieme. Cosa sono i residui attivi e cosa sono i residui passivi? I residui attivi sono entrate accertate, vi ricordate? Cioè entrate che sono confermate che entreranno, ma che non sono state ancora riscosse, ok? Quindi non c'è stato il materiale introito di quella somma. Quindi sostanzialmente sono dei crediti che l'amministrazione vanta nei confronti di terzi, quindi entrate che dovrebbero entrare ma non sono state ancora riscosse. I residui passivi sono spese impegnate, quindi bloccate nel bilancio, ma non ancora pagate ai fornitori per vari motivi. Quindi sono dei debiti che l'amministrazione ha, debiti commerciali nei confronti dei soggetti. I residui possono essere quelli di competenza, cioè quelli che si formano nel corso dell'anno e quindi ci può stare del fisiologico che nel corso dell'anno non si riscuote tutto e non si paga tutto, quindi quelli che fanno riferimento all'ultimo anno sono quelli più fisiologici e anche se sono un porto rilevante non sono critici perché è fisiologico che il comune non riscuote e non paga tutto entro l'anno. Quelli che diventano diciamo più problematici sono tutti quelli che provengono dal passato e soprattutto sono i residui attivi più vecchi perché vedremo vanno a diciamo determinare i fondi che il comune non può spendere e che deve bloccare nel bilancio. Vado avanti, no sono andata troppo avanti, quindi i residui. Questa è la parte invece dell'indebitamento. A proposito del debito quali indicatori troverete nella relazione della giunta comunale? La quota capitale, quindi quanto quell'anno il comune ha restituito in termini di quota capitale che deve restituire alla banca, a cassa depositi e prestiti, quindi al soggetto finanziatore. E qui vi ho messo i dati di tutti e tre i comuni. Gli interessi passivi che abbiamo visto, mentre la quota capitale è nei rimborsi prestiti, quindi è un titolo a parte. Gli interessi passivi, qui li vediamo tutti insieme ma sono nella spesa corrente. Ah, qui me è venuto un po' male il grafico. Comunque vedete quali sono gli interessi passivi pagati. Allora, l'ultima colonna è quella del comune di Roma, cioè 2022 ma è Roma. Quindi gli interessi passivi che sono stati pagati in quell'anno sul debito, quindi il totale della spesa collegata ai prestiti e soprattutto quindi potete vedere qual è lo stock del debito accumulato dal comune fino a quella data. Quindi qui vedete il comune di Napoli 1 miliardo e 429 milioni di euro, il comune di Milano 3 miliardi e 600, il comune di Roma 1 miliardo e 550 milioni. Quindi un conto è lo stock del debito, quindi nella relazione al consultivo viene data questa informazione. A che punto è? Dove è arrivata l'importo del debito comunale e poi qual è il costo di quell'anno del debito. Altre informazioni che potrete indagare, eventualmente spulciare, è il tasso medio applicato sul debito comunale. Quali sono i tassi che il comune sta pagando? Il comune sta portando avanti delle politiche di ristrutturazione del debito per ridurre il pagamento degli interessi? Quali strumenti ha attivato il debito contratto all'ultimo anno? E quello può essere interessante perché è chiaro che il debito poi comporta anche delle spese future, quindi è importante che magari quegli investimenti che sono finanziati da debito siano investimenti che sono stati oggetto anche di un minimo di partecipazione con la cittadinanza, visto che poi hanno un riverbero anche sui bilanci futuri. Le garanzie rilasciate sul debito di soggetti terzi, per esempio il comune di Milano ha rilasciato 217 milioni di garanzie e anche questo comporta diciamo indebitamento, anche se non diretto, quindi il comune di Milano per ATM, per i lavori della metropolitana. Quindi indagare sull'indebitamento del comune significa indagare anche queste voci e poi il rispetto dei limiti di indebitamento perché ci sono dei limiti che i comuni devono rispettare, quindi magari potrete analizzare questo indicatore. L'altro ambito che suggerivo di indagare è gli equilibri. Ora gli equilibri di bilancio è una tabellina molto complicata, però magari potrete andare solo a tirarvi fuori questi tre dati, cioè il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo. Il risultato di competenza vi fa vedere in sostanza quella che è la differenza tra le entrate e le spese dell'anno, la competenza, ricordate quindi quelle che sono entrate e spese di competenza di quell'anno, qual è la differenza? Come vedete il comune di Napoli il risultato di competenza è un risultato positivo. Nel 2022 la differenza tra entrate di competenza e spese di competenza è stata di 474 milioni. La faccenda si mette male quando? Quando al risultato di competenza si vanno a sommare, si somma tutto il passato del bilancio del comune di Napoli e quindi le risorse che il comune deve accantonare e vincolare per i vincoli di bilancio, a quel punto vedete che l'equilibrio del comune di Napoli diventa negativo, 42 milioni e in più in sede di rendiconto alla luce dei risultati della gestione il comune deve valutare anche rispetto al passato, deve fare degli aggiustamenti, quindi il comune di Napoli ha dovuto aumentare le risorse da accantonare, in sede di rendiconto l'equilibrio complessivo del comune di Napoli si chiude con meno 130 milioni di euro. Lo vediamo per il comune di Roma, Roma per esempio ha un risultato di competenza positivo di un miliardo e 400 milioni, con le risorse che accantonate questo risultato positivo viene mantenuto perché l'equilibrio è di 28,7 milioni, in sede di rendiconto però deve fare degli ulteriori accantonamenti e questo porta anche il comune di Roma in negativo, un equilibrio negativo. Comune di Milano è il comune insomma che riporta un dato positivo, il risultato di competenza è positivo, di equilibrio è positivo e anzi il comune di Milano se vedete dall'equilibrio di bilancio passa da 541 milioni, quello complessivo a 579 perché Milano la gestione è andata bene, questo gli ha consentito di sbloccare una parte di risorse che aveva accantonato e quindi l'equilibrio migliora, questo per far vedere come possono cambiare i numeri da comune a comune, però se tirate fuori questi dati sono dati uguali per tutti quindi potete fare delle comparazioni come ho fatto io, molto molto semplici. Ultimo ambito da indagare è il risultato di amministrazione, quando si chiude l'anno nel consultivo bisogna fare il punto e dire ok il punto come si fa? Il comune deve tirar fuori quello che è il fondo di cassa, quindi quanti soldi ci sono in cassa al 31-12 dell'anno, quanti sono i crediti alla fine dell'anno, quindi i residui attivi che si vedevano prima, quanti sono i debiti, quante sono le risorse, i fondi vincolati, cioè il fondo pluriennale vincolato, quindi tutte le risorse passate che vengono rimandate al futuro, quindi più più meno meno, si fira la riga e c'è o un avanzo di amministrazione o un disavanzo. Andiamo a vedere direttamente cosa succede al comune di Milano. Il comune di Milano ha un fondo cassa di 2 miliardi e 700 milioni, crediti per 3 miliardi e 2, debiti per 1 miliardo e 193, fondi vincolati 1 miliardo e 2, il comune di Milano ha un avanzo di amministrazione di 3 miliardi e 642. L'avanzo va a confluire tutto nel bilancio del comune di Milano del 2023? No. La parte dell'avanzo di amministrazione come deve essere ripartita? Una parte deve andare a coprire il fondo crediti dubbi e esigibilità, sono quei famosi accantonamenti che vi facevo vedere prima, all'inizio quando si parlava degli accantonamenti di tutti i comuni, cioè quel fondo che i comuni devono costituire e quindi devono accantonare, quindi prendono i soldi dall'avanzo di amministrazione per coprire il rischio del mancato incasso di quei residui attivi che si vedevano prima. Ecco perché vi dicevo, indaghiamo i residui attivi, perché più i residui attivi dei comuni sono tanti, più questo fondo diventa importante, perché il fondo crediti dubbi e esigibilità è proprio legato all'ammontare dei residui attivi, quindi di quelle entrate non ancora riscosse. Ovviamente il comune non deve garantire tutti i residui attivi non riscossi, deve fare un'analisi e deve dire di tutti i residui attivi che ho qual è la parte che io ritengo che sia a rischio di riscossione. Se voi vedete i crediti del comune di Milano sono 3 miliardi e 288 milioni, il fondo crediti, quindi la parte che il comune di Milano blocca perché teme che non possono essere riscosse è di 1 miliardo e 860 mila euro, quindi non c'è una corrispondenza tra quanto sono i residui attivi, quindi i crediti e il fondo crediti, andiamo a coprire solo quei crediti che riteniamo siano a rischio di riscossione. Quindi dei 3 miliardi del comune di Napoli, 1 miliardo e 8 vanno nel fondo crediti, non si spendono. 437 milioni, altri accantonamenti che la normativa prevede, quindi tutta questa parte dell'avanzo non può essere spesa dal comune. Poi ci sono delle risorse che sono vincolate per investimenti, sono 116 milioni, quindi risorse che sono avanzate da anni precedenti ma non è che il comune può spenderle ora come gli pare, sono vincolate degli investimenti perché probabilmente sono contributi per investimenti presi in anni precedenti non spesi e che quindi anche se avanzano sono vincolati a determinate spese. Cosa va nell'avanzo disponibile, cioè quella quota di risorse che il comune di Milano ha ributtato nel bilancio del 2023? Sono 365 milioni, quindi a fronte di un avanzo di 3 miliardi e 6 il comune di Milano può ributtare e quindi diventa un'entrata del bilancio di previsione 2023, è un'entrata che ovviamente non c'era quando è stato approvato il primo bilancio di previsione, quindi il primo bilancio di previsione non poteva contenere questa entrata perché ancora non si sapeva, dopo l'approvazione del consultivo, quindi a maggio il comune di Milano ha fatto una variazione e ha messo nel bilancio 365 milioni di avanzo dell'anno precedente. Vediamo cosa succede a Roma. Roma ha un avanzo di amministrazione di 7 miliardi e 148 milioni, a fondo crediti vanno 5 miliardi e 7, se vedete Roma ha 10 miliardi di residui e quindi il fondo è praticamente poco di più della metà dei residui del comune di Roma. Altri accantonamenti 512 milioni, c'è qualcosa di risorse per investimenti vincolate 94 milioni, l'avanzo disponibile è a zero perché l'avanzo di amministrazione non è sufficiente in realtà a garantire tutti gli accantonamenti che il comune, perché qui vediamo ci sono anche tutte le risorse vincolate che non vi ho messo, cioè di fatto l'avanzo di amministrazione che c'è il comune nuova non è sufficiente a coprire tutti i fondi vincolati e gli accantonamenti, quindi fondo crediti e altri accantonamenti, per cui cosa succede con l'approvazione dell'avanzo di amministrazione da parte del comune di Roma è che in realtà quell'avanzo diventa un disavanzo. Il disavanzo è di 449 milioni per cui a differenza del comune di Milano nel caso di Roma il disavanzo comporta una spesa a carico del bilancio di previsione 2023, una per esempio, e la quota del disavanzo che il comune di Roma deve recuperare nel 2023 è di 28 milioni e 4. Il comune di Napoli è diciamo quello messo peggio perché la differenza fra l'avanzo che si viene a creare non solo non è sufficiente a coprire gli accantonamenti, non ci sono risorse nemmeno per gli investimenti, avanzo disponibile zero, il disavanzo complessivo del comune di Napoli è di 1 miliardo e 989 milioni, il che comporta una quota di disavanzo anno da recuperare pari a 170 milioni, quindi una spesa rilevante. Quindi ci saranno comuni in cui il risultato di amministrazione è un momento che produce, che individua nuovi risorsi da poter mettere nel bilancio in corso. Ci sono comuni come Roma e Napoli dove il risultato di amministrazione comporta fare i conti sulle risorse da mettere nella spesa per recuperare il disavanzo. Qui vi ho fatto un elenco di quelli che sono i principali, diciamo le principali entrate che i comuni fanno fatica a riscuotere e che quindi implicano la costituzione del fondo crediti. Sono soprattutto tasse, evasione fiscale, rette e corrispettivi per servizi erogati, i canoni di concessione di affitto dei beni comuni e le multe. Quindi queste sono le voci di entrata più problematiche, perché ovviamente sono anche quelle più consistenti, abbiamo visto che sono le principali entrate e quindi sono quelle che pesano di più anche in termini di entrate non riscosse. E qui vi ho ripirogato l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità dei comuni di Roma, Napoli e Milano. E poi oltretutto ci sono altri fondi, fondi per rischi da contenziosi, ecco vi faccio vedere il fondo per rischi, perdite e società partecipate. Quindi se le società partecipate dei comuni producono delle perdite, il comune obbligato diventa garante del recupero di quelle perdite delle sue società, ovviamente per la quota parte di partecipazione e quindi anche quelle diventano risorse che il comune mettere a fondo, mettere in un fondo significa non poter spendere. Quindi sono tutti soldi che troviamo nelle spese ma che non vengono spesi per la città e vengono accantonati. Ultima cosa, basta, su OpenBilanci trovate, avete la possibilità di poter confrontare la spesa pro capite del vostro comune con la spesa pro capite di tutti i comuni d'Italia. Quindi se vi volete divertire e vedere, confrontare le entrate e le spese del vostro comune con comuni limitrofi o con comuni che comunque possono essere iniziati similari al vostro, vi ho messo il link dove per varie tematiche OpenBilanci vi consente di inserire, voi inserite il nome del vostro comune e vi esce fuori l'entrata alla spesa riferita a quell'ambito di intervento. Per esempio, insomma, ho fatto delle simulazioni ieri su la spesa pro capite per lo sviluppo economico nelle città con più di 200.000 abitanti, qui mettono quindi tutta una serie di dati. Ci sono anche delle infografiche molto carine, insomma, che potete anche sfruttare se poi volete fare degli incontri. Però ecco, è uno strumento molto pratico ed operativo che vi consente di fare dei confronti tra la spesa pro capite, ovviamente, da considerare questo. Cioè, può succedere, io ho fatto delle simulazioni per il mio comune su alcuni ambiti di intervento e può succedere però che a seconda di come il comune alloca proprio poi il capitolo di bilancio all'interno del bilancio, possono anche uscire dei risultati strani. Perché, per esempio, vi faccio l'esempio che è emerso dal mio comune sulla spesa per gli anziani. Inserendo il nostro comune, ma anche i comuni limitrofi, risultava che nell'ambito degli anziani tutti i nostri comuni della Val di Cecina non spendessero un euro sugli anziani. Non era la realtà, nella misura in cui in realtà quella spesa era all'interno della spesa sociale più ampia e quindi non rilevava. Ecco, quindi nel consultare, nel utilizzare questi strumenti che possono essere di confronto, di riflessione, eccetera, considerate che però ovviamente hanno anche dei limiti, ma questo diciamo, su questo il sito lo mette in evidenza. Qui, per esempio, c'è la spesa pro capite per il diritto alla casa nelle città con più di 200.000 abitanti, dove si vede che la spesa, diciamo. Tra l'altro trovate la media dei comuni e poi tutti i singoli comuni. E carino anche l'andamento di quella spesa nel corso degli anni. Quindi qui, per esempio, la spesa per il diritto alla casa dal 2016 al 2021 di cinque grandi città italiane. E si vede un po' l'andamento. Basta, mi fermo perché, come ho parlato troppo, mi dispiace. Spero di, insomma, che la cosa sia stata utile, ecco. Grazie Simona. Se chiudi lo schermo, così facciamo l'ultimissima parte. Beh, intanto credo che, diciamo, la chiarezza di Simona sia stata apprezzata da tutti. Chiaro che sono tantissime informazioni che vanno digerite, sedimentate, ma ovviamente le slide che Simona ha preparato poi verranno fornite a tutti, magari dopo la correzione di quella dove Roma era diventata 2022. Insomma, fatta quell'unica correzione, direi che poi il materiale va a tutti. Ovviamente il tempo era un'illusione pensare che si potesse parlare di questo argomento nell'arco di un tempo molto più ridotto, quindi io direi che darei spazio a 5-6 domande e poi ci salutiamo perché c'è anche una questione di igiene della vita personale delle persone che va tenuto conto. Ernesto Di Maio aveva scritto questa cosa in chat. Buonasera, sono di Foggia. Il mese scorso abbiamo eletto la sindaca, il consiglio comunale dopo due anni di commissariamento. I documenti predisposti ai commissari sono gli stessi di un'amministrazione? Se puoi già rispondere a questa, intanto chi ha delle domande però davvero non più di 5 perché poi ci salutiamo. Allora, sicuramente il commissario non è il sindaco, quindi è chiaro che è un organo tecnico, quindi quelli che sono la parte politica è sicuramente meno rilevante. Sicuramente il bilancio è uno strumento che serve, per cui viene approvato. Non cambia nulla, sicuramente cambia i contenuti perché il commissario non ha la valenza della politica, è un organo tecnico. Non ti sentiamo Marco? Sì, sì. Daniele Alfonsi chiede se anche il bilancio regionale è fatto così, cioè come quello che hai presentato. Allora, il bilancio regionale è un po' diverso, ha delle peculiarità e la peculiarità del bilancio regionale è che è un bilancio più di trasferimento di risorse. Cioè, mentre il bilancio dei comuni è un bilancio in cui è collegato a delle attività, a servizi che vengono svolti direttamente all'amministrazione comunale, se andiamo a vedere il bilancio della regione è un bilancio più che comporta il trasferimento di risorse dallo Stato o dall'Europa alla sanità, quindi che è la principale destinataria delle risorse regionali, e anche agli enti territoriali. Quindi i meccanismi nel complesso, i principi, i meccanismi, nelle linee di principio generali sono gli stessi. Però poi le caratteristiche sono diverse in questa misura, cioè che il bilancio della regione è molto meno operativo, è molto più un bilancio di trasferimento ad altri delle risorse. Nel caso della regione, una grande parte del bilancio della regione va alla sanità. Quindi lì, insomma, sarebbe interessante capire in che modo poi le risorse che la regione trasferisce vengono rendi contate alla regione e quindi la trasparenza andrebbe restituita in maniera diversa. Va bene, allora io ho Erminio, Bruna e poi c'è una domanda in chat. Interventi molto brevi, eh? Lo dico perché conosco Erminio e conosco Bruna. Sarà molto breve stavolta. Io mi concentro sul discorso del bilancio partecipativo che per la nostra realtà è importante. Mi sono fatto le mie letture rispetto a piattaforme statali tipo Formez, tipo Open Government, tipo Decidim come elemento strumentale di piattaforma partecipativa proposta dallo Stato per essere implementata in tutti i comuni d'Italia, gratis se vuole, a richiesta. E su questo tipo di approccio del cittadino alla partecipazione della gestione del bilancio, se lei mi può confermare che non è un mia visione, diciamo così, idiliaca, ma questo percorso è un percorso che potenziato potrebbe permettere a molti cittadini anche non consiglieri comunali o altri elementi più interessati sulla partecipazione e anche il bilancio che oggi stessi abbiamo visto in maniera perfetta. E come giudica questa prospettiva da proporre a chi pensa che sia interessante per se stesso? Grazie, vai. Allora, io penso che tutti gli strumenti che possono agevolare la conoscenza e l'approfondimento del bilancio siano utili. Anche io non conosco nel dettaglio, diciamo, ecco io ho un po', anche io ho guardato queste piattaforme, non le conosco nel dettaglio, però sicuramente sono utili ad approcciare al bilancio perché comunque c'è una, come dire, proprio una difficoltà culturale, cioè ad approcciare al bilancio, a questi temi perché vengono considerati troppo diciamo di competenza solo dei tecnici e invece, come dire, dovrebbero essere argomenti più allargati. Quindi io ritengo che comunque sono strumenti che possono consentire di aiutare i non addetti a lavori che sono veramente pochi, anche all'interno del comune, perché non pensiamo che anche dentro al comune ci siano, cioè sono, come dire, informazioni molto ristrette, ma ripeto perché c'è proprio un po' questa difficoltà e questa anche iper specializzazione sul tema dei bilanci. Quindi io credo che siano tutti strumenti utili a favorire percorsi anche di conoscenza, perché ora parlare del bilancio partecipativo poi può essere declinato in tanti modi. Secondo me abbiamo bisogno innanzitutto proprio di favorire di più la conoscenza e la consapevolezza sulle risorse che sono effettivamente disponibili ancorché con tutti i vincoli, ma che sono disponibili e che sono, diciamo, utilizzabili per la città. Ecco, quindi questo è il mio pensiero. Grazie Simona, Bruna, poi ci sono una serie di domande. Chiudiamo le domande, quelle fatte rimangono quelle e basta. Bruna? Sì, grazie. Chiederei per favore prima di tutto un complimento doveroso, è una lezione splendida ed interessantissima. La domanda è, questa molle di documenti è cambiata nel corso del tempo, cioè io faccio riferimento, sono anziana, abito a Bologna, il sindaco Zangheri aveva l'abitudine di passare all'inizio veramente, non alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno di andare nelle case del popolo per illustrare il bilancio. Allora ricordo che c'erano le spese facoltative e le spese obbligatorie, faceva riferimento al testo unico del 34. Domanda, ora che possibilità c'è di vedere se effettivamente ci sono delle spese alle quali il Comune è costretto a farvi fronte? Grazie. Grazie Bruna. Allora, la contabilità nel 2015 è stata completamente rivista, quindi ci sono stati degli importanti cambiamenti nelle regole, negli schemi di bilancio, nelle procedure, negli atti, quindi cambiamenti importanti ce ne sono stati. Per capire, diciamo, ovviamente delle spese obbligatorie ci sono sempre, nel senso che penso alla spesa del personale, la spesa legata ai contratti, è chiaro che anche da quelle chiavi di lettura del bilancio che vi ho fatto vedere prima, non c'è, non trovate questa risposta, però nella relazione, la giunta comunale, nella relazione della revisione dei conti, molte risposte le potete trovare e le potete individuare, le altre ovviamente possono essere chieste all'amministrazione. Per esempio, secondo me nel rendiconto semplificato del cittadino si può dare maggiore evidenza di questo, perché purtroppo io ho visto che molti comuni hanno diciamo declinato il rendiconto semplificato solo come un addempimento burocratico, cioè devono fare anche quello, quindi prendono delle tabelle, le mettono insieme, però non è che agevolano questa lettura e la risposta a queste domande. Quindi secondo me la cosa interessante è chiedere agli amministratori di sfruttare, diciamo, di implementare il rendiconto semplificato per fornire questo tipo di risposte, perché le regole e le norme sono veramente tanti, io ve l'ho semplificato tanto, ma la mole di regole sono veramente tantissime, quindi è difficile dare delle risposte di questo tipo, però il rendiconto se venisse fatto in maniera più chiara e più alla portata dei cittadini potrebbe essere uno strumento utile, oltre alle assemblee, perché secondo me questa è una bella abitudine, cioè andare a raccontare questi documenti, spiegare la cittadinanza e avere la possibilità in quella sede di fare domande. Grazie. Allora vado con le due ultime domande, te le dico in fila così dai una risposta unica. La prima è dove si trova il maggior numero di comuni in crisi economica, la seconda è se le voci di bilancio dei piccoli comuni, meno di 5 mila abitanti, sono le stesse che ha illustrato. La terza è se c'è una legge a livello nazionale che obbliga i comuni a esplicitare le voci di bilancio. La quarta è il fondo di solidarietà, quali sono i criteri per cui un comune deve contribuire o riceve dal fondo? Allora, riparto dall'ultima. Il fondo di solidarietà comunale è lo Stato che lo quantifica e lo decide e anche qui devo dire con una scarsa chiarezza e trasparenza perché diciamo i comuni che finanziano di più il fondo di solidarietà comunale sono comuni della costa e turistici, sono quelli da un'indagine su quelli che finanziano di più, però posso fare l'esempio in Toscana, tra l'altro i comuni sono pochissimi quelli che finanziano, il Rosignano è uno di quei pochi e finanzia anche la città di Firenze, cioè quindi un comune piccolo come quello di Rosignano finanzia una città grande come quella di Firenze. Questi criteri ristabilisce lo Stato. Ora leggevo oltretutto nella bozza di legge di bilancio che la composizione e anche il finanziamento di questo fondo dovrebbero un po' modificarsi, forse viene anche ripartito in due pezzi, c'è una parte del fondo che andrà a finanziare la spesa storica dei comuni e una parte del fondo che andrà a finanziare i servizi, i livelli essenziali dei servizi famosi LEP e quindi sperimenteranno una divisione del fondo, non so se si farà meglio o peggio, questo non lo so, poi la bozza di bilancio è ancora in discussione. Comunque lo decide lo Stato e i comuni subiscono il prelievo, su quello non ci si può fare nulla. I comuni più in crisi, come dicevo prima, sono soprattutto i comuni del sud, sono quelli più in difficoltà, ma mostrano dei problemi di squilibrio anche alcuni comuni del centro e le fatture, diciamo, quelle più alte, sono anche quelle più in difficoltà. I comuni con più avanzo disponibile, quindi ritornando al risultato di amministrazione, sono quelli centro-nord, però ripeto, con delle eccezioni al centro, quelli più in difficoltà al sud. Poi, mi sono persa nelle domande. Allora, queste regole che abbiamo detto valgono per tutti i comuni, quindi non è che i comuni più piccoli hanno degli sconti, lo dicevo anche prima, mentre il fatto di stabilità interno La domanda era se le voci di bilancio sono uguali. Sì, sì, le voci di bilancio sono uguali per tutti. Sì, sì, tutte uguali. Poi, una domanda era se c'è una legge a livello nazionale che obbliga i comuni a esplicitare le voci di bilancio. Sì, sì, allora, abbiamo una super legge, più 800 allegati, cioè lo schema di bilancio comunale ormai è uguale per tutti, con l'armonizzazione, la riforma con cui praticamente, naturalmente c'è stato un periodo in cui la competenza di bilancio era dello Stato e anche competenza concorrente delle regioni. Questo aveva portato un po' a delle differenziazioni tra i vari bilanci comunali. Quando è stata approvata la riforma costituzionale e il pareggio di bilancio in Costituzione, è stata prevista anche una modifica della competenza sulla finanza pubblica. Quindi da competenza concorrente anche da parte delle regioni è diventata competenza esclusiva dello Stato e oggi gli schemi di bilancio, le regole, sono uguali per tutti, per tutti gli enti. Quindi non ci sono differenze e questo agevola il confronto. Quindi anche quel database a cui facevo riferimento vi consente di confrontare, ma anche se scaricate, come ho fatto io, questi tre bilanci di tre comuni, potete confrontare benissimo perché gli indicatori, i dati sono gli stessi. Ovviamente può succedere, come dicevo prima, che una spesa che per esempio è per gli anziani sia collocata all'interno della macrovoce famiglie anziché esplicitata in una voce anziani. Ecco, più si sceglie nel dettaglio, più ci possono essere delle differenze, ma gli schemi sono uguali per tutti. Allora, le ultimissime due, poi ci salutiamo. Cosa si può fare se i documenti di bilancio non sono pubblicati in amministrazione trasparente? Allora, si consulta. Aspetta, l'altra è sempre Foggia, mi permetto di rispondere io. Lui dice, grazie della risposta, ma per capire meglio il bilancio preventivo triennale fatto dai commissari deve essere rifatto dalla nuova amministrazione. Ovviamente ogni nuova amministrazione è rifatto. Il bilancio si può cambiare cento volte anche durante l'anno, quindi ha maggior ragione. Se il bilancio del commissario è un bilancio tecnico, quando arriva la politica, la politica ha tutto il diritto di rendere magari quel bilancio politico e quindi modificarlo, assolutamente. Per quanto riguarda l'assenza dei documenti di bilancio in amministrazione trasparente, come l'assenza di qualsiasi altro documento in amministrazione trasparente, siamo nell'ambito dell'accesso civico. Cioè potete scrivere al responsabile della trasparenza del comune, che deve essere nominato e anche quello deve essere pubblicato sul sito, e contestare il fatto che il bilancio non è pubblicato. Quindi il bilancio non è che lo mandano a voi, ma deve essere immediatamente pubblicato in amministrazione trasparente. Quindi se manca potete chiederne la pubblicazione al responsabile anticorruzione e trasparenza del vostro comune. Bene, grazie Simona. Allora, siccome alcuni l'hanno chiesto, lo ripeto, questo incontro è registrato e quindi sarà pubblicato sul canale YouTube di Attacchitalia. Saranno messe a disposizione anche le slide che Simona ha presentato oggi. Chi non ha, chi tra virgolette è nuovo, cioè si è affacciato oggi e non l'ha ancora fatto, se mette il suo indirizzo email nella chat prima che chiudiamo l'incontro, poi per i prossimi passi verrà contattato direttamente. Vi ridico i prossimi appuntamenti, ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 18, per il terzo incontro che è la finanza dei comuni tra PNRR e ritorno delle politiche di austerità, con Corrado Conti. e poi invece il quarto incontro che era previsto per lunedì 11 dicembre sarà lunedì 18 dicembre sulla finanza di progetto e ci sarà anche per quell'incontro ci sarà ancora una volta Simona Repole che anche da quello che avete scritto in chat tutti e tutti avete apprezzato e quindi direi che ottima cosa che la rivendiamo. Scusa Marco, scusa, è consentito una veloce domanda? L'amministrazione trasparente vale per tutti... Sei incorreggibile, te lo posso dire, poi la fai, ma sei incorreggibile. Ma io ho già finito, ho già praticamente finito. La domanda è l'amministrazione trasparente vale per tutti gli enti pubblici? Tutti, tutti. Sì, sì, vale anche per le società partecipate. Giustizia compresa? L'amministrazione giudiziaria compresa? Riguarda tutta la pubblica amministrazione, sì? Grazie mille, scusate. Buona serata Bruna. Buona serata. Bene, dai. Ciao a tutte e tutti e a presto.